Musei civici Chiesa di San Francesco Quest'area abbandonata della città romana venne scelta attorno all'anno 1000 come sede del Palazzo Imperiale. Successivamente, in epoca comunale, questo venne donato dal Comune ai Francescani che nella prima metà del 1200 costruirono la loro chiesa e il convento. Nei secoli successivi il complesso è stato oggetto di importanti modifiche e rifacimenti. Nel 1702 la chiesa venne adibita da francesi che avevano occupato Reggio a prigione di guerra. Nel 1798, per volere della Repubblica Reggiana, la chiesa venne impiegata come caserma e stalla per cavalli. Mentre nella prima metà dell'Ottocento, chiesa e convento furono destinati edificio scolastico e museo. Finalmente, nel 1857, la chiesa viene nuovamente consacrata e dalla fine del secolo l'ex convento diviene sede definitiva dei musei. Grazie a tutti!